Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video Che partita, che partita È cominciato in maniera scoppiettante Credo che scoppiettante sia un eufemismo Il campionato del Cagliari Che lo vede addirittura sotto 2-0 contro lo Spezia Per poi rimontare 2-2 in 4 minuti Bestiale Veramente bestiale Io non so bene cosa pensare, cosa dire esattamente Mi sono notato alcune cose positive e negative Di negativo penso ci sia tutto il primo tempo Chi ha lasciato molto a desiderare Il primo tempo era la classica partita da calcio di agosto Ma era anche la classica partita del Cagliari degli ultimi due campionati Mi tengo stretto Un Cagliari che a me personalmente non è piaciuto Quello del primo tempo Sobbivamo in maniera troppo netta Il pressing dello Spezia Tra l'altro Spezia squadra che non ha giocato nel precampionato Perché ha disputato soltanto la partita di Coppa Quindi troviamo davanti Avevamo una squadra che Comunque non ha completamente 90 minuti nelle gambe Ma hanno retto tutta la partita Più che bene Mi viene da dire Il problema è stato nostro che non abbiamo saputo controbattere Al meglio Al loro pressing Poi Tra le cose che mi sono segnato Malissimo Carboni sul primo gol Credo sia quasi del tutto colpa sua Si è spostato troppo in avanti Per andare a marcare Giasi Ha creato un buco Che poi Godin Non è stato in grado di coprire Perché purtroppo Godin Non fa della velocità Il suo punto focale Però è chiaro che Lì Se tu è ripiazzato Magari un po' meglio Forse l'avresti potuto evitare Però tralasciando quello Anche comunque un bel tiro Da parte di Giasi Che però secondo me Poteva essere tranquillamente parabile Poi lasciando Sorvoliamo Mi sono scritto grave errore di value Sul gol mancato Da calcio d'angolo Lì Sorvoliamo proprio Soffriamo troppo il pressing L'ho detto prima Un'altra cosa che ci portiamo appresso Da non si sa quanti anni a questa parte È il fatto che giochiamo Con troppi retropassaggi Cragno è il nostro play Sostanzialmente è lui Poi Calci d'angolo dubbio Scritto perché I primi calci d'angolo Sono stati battuti Molto molto bene Più si andava avanti Più i calci d'angolo Venivano battuti In maniera Orribile Orribile Però vabbè E Questa è una gentilezza Che io chiedo a tutti Se guarderanno I giocatori del Cagliari Questo video Per favore Non fate crossbassi a Pavoletti Per favore Perché fino a quando glieli fate alti Ripeto A me non piace Però Magari con i crossalti Pavoletti ha il suo Perché? Ok? Ma se glieli facciamo bassi A uno che Palesemente Non sa calciare con i piedi Diciamo che Va un po' in controtendenza La cosa Poi per quanto riguarda Le cose buone Ho visto un ottimo Cambio di gioco In fase verticale Che Nandez Molte volte Ha optato Per questa scelta E gli è venuta Molto molto bene Lo scambio sostanzialmente Era Nandez D'Albert Tra i due esterni Quasi sempre Dalla fascia destra Alla fascia sinistra Uno scambio verticale Che molte volte È stato utile E dovremo lavorare Molto su questo Poi parliamo Di tre singoli D'Albert Mi ha stupito Positivamente Molto molto bene Ha fatto Quelle finte Controfinte Detacco Lì in difesa Che per un attimo Mi sono cagato sotto Ve lo dico sinceramente Però ha giocato bene Sia in fase propositiva Che in fase difensiva E mi sta facendo ricredere Mi è bastata una partita Per lo meno adesso Per farmi Pazzialmente Ricredere Io continuo ad avere Delle buone sensazioni Su D'Albert Molto molto contento Parliamo anche di Nandez A prescindere dalle questioni A prescindere Dal Da quello che è successo Parliamo del giocatore Io Leggo Alcuni commenti Di gente Sotto i miei video Che continuano a mettere in dubbio La Bravura di Nandez A livello calcistico Credo che tutto Si possa dire a Nandez Riguardo A quello che ha fatto Riguardo alla sua gestione Riguardo a tutto Tranne che Non sia un talento E un giocatore Fenomenale Oggi Ne ha dato Un'ulteriore riprova Se rimane Io personalmente Sono contento Perché è un giocatore Che io adoro Lo amo alla follia Nandez Però non giustifico Quello che ha fatto Sia chiaro Però ripeto C'è stato anche un errore Da parte della gestione Della società Ma per quello Trovate un video Sul caso Nandez E poi vabbè Joao Pedro Joao Pedro Joao è vita Joao è amore Joao è come Shrek Joao è tutto Joao è veramente Tutto È fantastico Poi altre due cose Che mi sono segnato La prima È un'ottima Ho visto che il Cagliari Stranamente A livello difensivo Non mi ha fatto impazzire Però ha notato una cosa Positiva Ovvero che abbiamo Giocato bene Per quanto riguarda Fare la linea Quando abbiamo fatto La linea L'abbiamo fatta Molto molto bene Sia quando c'era Codin Che quando c'era Ceppitelli Mi ha stupito particolarmente Questa cosa Perché io Con Giasi Tra l'altro hanno segnato Gli stessi due Che hanno segnato Nell'ultima partita Contro lo Spezia Quella persa per 2-0 Giasi e Bastoni E Abbiamo fatto un'ottima linea Abbiamo fatto veramente Un'ottima linea E poi concludo Dicendo che è stato Furbissimo Pavoletti A prendersi quel rigore È stato Furbissimo Ha fatto la cosa Più giusta Che andava fatta Ovvero quella di Andare In velocità E cercare con il fisico Il portiere Il rigore L'ha palesemente cercato E l'ha trovato Quindi Chapeau A Pavoletti Per questa scelta Perché si è rivelata Poi Fruttuosa Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Qua sotto nei commenti Cosa ne pensate E detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella Ciao a tutti